Ischia ha presentato un proprio progetto per la Smart City, un progetto che è stato selezionato da Lansci tra tutti i progetti presentati dai comuni della regione Campania. Cosa vuol dire? Intanto un motivo di orgoglio perché siamo tra i pochi progetti selezionati nel sud Italia. Noi insieme a Messina, a Bari, al Vallo della Lucania e a Cosenza abbiamo presentato dei progetti che sono stati ritenuti meritevoli di essere presi come progetti pilota e quindi accompagnati ad una fase esecutiva. In tal senso noi abbiamo già deliberato un accordo con Studiare Sviluppo, che è una società in house del Ministero dell'Economia, che ci supporterà per la parte finanziaria di questo progetto. Vogliamo spiegare a chi ci ascolta che cosa sono queste Smart City? Sì, intanto il concetto di Smart City viene, lo dice la parola stessa, è la città intelligente, la città che non inquina, è la città che non spreca spazi, è la città che ottimizza le risorse. Insomma, tutte quelle iniziative e quelle azioni tese a abbattere i costi ambientali e a produrre servizi rientrano nel concetto di Smart City, che si fa forza naturalmente sugli aspetti tecnologici, sugli aspetti legati alla comunicazione, sugli aspetti legati ai social. Le Smart City, come hai ricordato tu, riguardano tantissimi settori della vita di un territorio. Il progetto presentato dal Comune di Ischia cosa riguarda? Il progetto presentato dal Comune di Ischia cerca di affrontare le criticità presenti sull'isola di Ischia, quindi i trasporti, i servizi ai turisti, la comunicazione, i servizi quindi anche alla cittadinanza, con l'ambizione di attivare un'innovazione sociale nell'ambito del territorio isolano. C'è stata la selezione del progetto di Ischia, adesso il prossimo step quale sarà? Il prossimo step sarà costruire e quindi portare a una fase definitiva ed esecutiva quest'idea progetto che è finora stata premiata, quindi un confronto con tutte le altre amministrazioni per cercare delle linee guida da poter portare a una fase esecutiva e quindi un confronto e un'attività produttiva con le associazioni e con studiare sviluppo che ci affiancheranno nella definizione di questo progetto e la presentazione del progetto al salone dell'edilizia che si dirà il 22, 23 e 24 ottobre a Bologna dove nell'ambito della Smart City Exhibition verranno presentati i progetti premiati e quindi anche il progetto di Ischia.